Ciao, in questo breve video ti voglio spiegare come funziona il nostro protocollo di consulenza online perché siamo già pronti, non abbiamo fatto altro che trasferire il nostro protocollo che solitamente viene fatto one to one, persona davanti a persona con oltre 3000 clienti abbiamo invitato questo protocollo e l'abbiamo semplicemente trasformato online quindi abbiamo un software che ci consente di vederci, di interagire, di sentirci ma anche di condividere lo schermo in modo che possiamo analizzare magari una primimetria un progetto se è una nuova costruzione, le foto dei vecchi serramenti e poi aggiungendo una dimensione al telefono, quindi vedendosi, è più facile capirci soprattutto per noi italiani che ci piace gesticolare e fare delle cose ma è possibile fare un disegno, fare tutto quello che si potrebbe fare quando ci si incontra veramente di persona, solamente non si può toccare i prodotti però si può vedere una fotografia, qualcosa, un minimo diciamo che la prima fase iniziale dell'analisi dei tuoi bisogni è molto facile da fare anche con questo tipo di strumento che abbiamo messo a disposizione per te quindi che cosa succede? succede che ti manderò un link in questo link lo puoi scaricare dal tuo cellulare ma meglio da un desktop, quindi da un pc o un mac ti farà scaricare un'applicazione se è un telefono o un tablet oppure il software direttamente se sei sul pc o sul mac e con questa applicazione basterà farci un clic sopra, non devi fare nulla inizieremo a vederci, a sentirci e interagire tra di noi è tutto veramente molto semplice ti consiglio di farlo da un pc desktop perché uno schermo più grande ti consente di vedere meglio quando io ti mostrerò delle cose o quando analizzeremo le planimetrie piuttosto che da un schermo di un cellulare che per quanto siano grandi ultimamente rimane sempre piccolo per questo tipo di attività ma se hai solo il cellulare a disposizione non ti preoccupare che possiamo fare anche con questo strumento quindi ci vediamo alla nostra consulenza a presto, ciao!